salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui sul taburno per un breve giro fuori porta infatti è previsto rientro per pranzo qualora arrivassimo vivi alla fine del giro abbiamo fatto per salire una strada abbastanza problematica che a confronto questo non è niente previsto poi un passaggio per montesarchio e ritorno a casa per pranzo tra l'altro per festeggiare anche il napoli campione d'italia davanti a noi abbiamo manuele sandrone e claudio che sta facendo da guida in questo giro dietro ci sono delinquenzo e il padre di claudio con una cb6 50 f che avete già visto tra l'altro sul canale nel video del tagliando da moto 72 le mucche il culo della mucca sebbene siano delle strade un po' disastrate devo ammettere che però mi sto abbastanza consolando questi sono proprio quei generi di paesaggi che io adoro fare in moto manuele tra l'altro già accusato un bel po di distruzione ai polsi in quanto questa strada sebbene sia una vera schifezza è comunque molto molto più curata di quella che abbiamo fatto prima ma devo fare altre sette bucature dopo sta strada come vanno i polsi ma sto distrutto ho preso un moscerino proprio al centro del casco in mezzo agli occhi proprio l'ho preso ah un po' di sole che ci riscalda un pochettino le membra stanche e adesso un pochettino li capisco quelli che fanno enduro selvaggio estremo con le tassellate in mezzo alle montagne nei sentieri sterrati e tutto io mi rendo conto che anche stringendo il culo a ogni curvetta qua non è che me ne sto proprio vedendo bene di questo percorso bello strapiombo strade dissestate interdette ma a noi non ci fa paura niente non è vero fra poco cadiamo ci sfondiamo tutto vai a pentola 07 vorrei andare sotto all'alberello però non c'è niente da fare ragazzi i passaggi di montagna sono sempre quelli più mozzafiatanti gulosi croccanti che spettacolo guardate qua dove siamo vabbè Claudio Attonito devo dire la verità si è fatto perdonare ma che spettacolo ma dove cazzo siamo bellissimo no vabbè ma che spettacolo è siamo non lo so in paradiso questo punto è bello ma devo provare un pro cazzo? grazie non ho capito ma devo provare un pro cazzo mi aiuti Enzo ma tu hai scotto pure abbiamo visto questo trattore basso 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 grazie non gira non gira manatevi un biscotto manatevi un biscotto ok siamo ripartiti adesso ci stiamo dirigendo la volta di Montesarchio facciamo qualche altra bella curva in questo splendido panorama del Monte Taburno come delinque non s'entrante come delinque ok e vedi vedi Questa è posta? Fermi, sta facendo una gara No, è fermo, ho chiuso Ti faccio passare io, 5 minuti Ho cominciato in Galdinara Io non mi sto lamentando, mi hai scelto perché No, no, ma no, per voi Ciao mamma L'ultima manifestazione così ti è venuto uno addosso È andata a finire male Guarda il padrone, guarda Il padrone nazionale Che piede si deve prendere a tempo Grazie Arrivederci Bella questa uscita, molto croccante Abbiamo fatto questo giro a volo a volo Non pensavo ma alla fine ce l'abbiamo fatta Rientra per pranzo Ragazzi anche oggi siamo giunti alla fine di questo video Se il video vi è piaciuto mettete mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie per la visione!